Salve. Salve. C'è Sandra. Chi? Sandra. Intendete il dottor Monney? Ah, non sapevo che Sandra fosse dottore. Prego. Grazie. Non vi interessate voi a Sandra? Avevo capito che avesse un debole per voi. No, no. Credo che dovrò presentarmi a loro. Professor Stevens. La signorina Breme, quello è Pinotto e io sono Gianni. Piacere, signorina. Il piacere è mio. Ho un lavoro da finire, ma è cosa breve. Aspettatemi in biblioteca. No, scusi, professore, ma siamo venuti a trovare Sandra. Vedrete che scende subito. Pinotto. Sandra, salve. Quella donna. Chi è? È un'amica di Gianni. Ha portato al ballo anche lei. Ti avevo detto di venire solo. Dobbiamo liberarci. Liberarcene? Come? Ciao, Sandra. Salve, Gianni. Ah, John. Questa è Sandra. Sandra, John. Avete una bella casa, dottore. Sapete che sono dottore? Ma ce l'hanno detto alla porta. Oh, il professor Stevens. Ma ora sono in vacanza, quindi l'incognito. E voi che fate? Sono in vacanza. Ma c'è una festa qui, vero? Sì, ora vado a mettermi il costume. Volete incipriarvi il naso? Grazie, volentieri. Torno subito, caro. Torno subito, mon amour. Ciao, cara. Ciao. Ciao.